Bentornati su MyFootballJersey. Con i mondiali in Qatar appena conclusi, continuiamo però a vedere qualche maglia delle nazionali. Questa è la seconda maglia della USA, dello USA, in versione FUN, la maglia più comoda dedicata ai tifosi. Dopo aver aspettato 8 anni per apparire in una Coppa del Mondo, la squadra americana si presenta con maglie che dovrebbero rendere orgoglioso tutto il paese. Con gli stemmi al centro della maglia, la trasferta USA World Cup 2022, gli swoosh Nike sulle maniche, questo modello riprende la maglia di casa. Per quanto riguarda la divisa da trasferta, è presente un motivo Dai-Tai che la caratterizza e la rende unica. La maglia da trasferta Nike, United States 2022, sostituisce il precedente colore blu Navi con un blu brillante blu reale. Ufficialmente i colori sono Bright Blue White, realizzata in una vestibilità regolare utilizzando la tecnologia Dry Fit, traspirante di Nike, per mantenere fresco e comodo. A me questa maglia piace. Di un bel colore blu, con questa, diciamo così, tonalità di blu, blu scuro, nero, con queste sfumature, veramente molto bella. Nella mia personalissima classifica questa prende 4 stelle. Le finiture sono giuste, i numeri sono attaccati nel modo giusto, a mio avviso. Ogni tanto me lo segnalate. E al costo che vedete qui sopra, veramente un affare da non farsi sfuggire. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia e sul sito vi ricordo che sono presenti delle promozioni che potete utilizzare. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Nel frattempo io spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan. 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione